il calcio ha diritto e dovere di fare quello che ritiene che sia più giusto, però a cominciare da te stesso mi fai la domanda, il calcio qui mi sembra di avere l'impressione che sia la Serie A è un loro diritto, un loro dovere, completare la stagione se lo ritengono opportuno, dopodiché penso che sia altrettanto importante, se non indispensabile, prevedere un'alternativa se questo per motivi che sono facilmente comprensibili possano avvenire, ma lo dico senza nessunissimo tipo di polemica perché non ho voglia di farlo. L'allusione di Giovanni Malagò al piano B per le categorie che vanno dalla cadetteria ai direttanti appare sempre di più come l'ipotesi più concreta con cui fare i conti, il Lega Pro per la verità ha quello che i presidenti della massima serie non vogliono sentir nominare per ragioni economiche, la maggior parte dei presidenti di Serie C lo sta dichiarando e urlando da quasi un mese per le ragioni opposte e soprattutto per l'impossibilità ad applicare i protocolli medici. Il problema tuttavia resta sempre lo stesso e riguarda il criterio da adottare per determinare promozioni e retrocessioni, ma anche da dove eventualmente ripartire. Temi che hanno fatto diventare la discussione incandescente quando è trapelata la proposta del sorteggio per determinare la quarta classificata. Carpi, Reggiana, Padova, Carrarese, Novara e soprattutto Bari che rappresentano i club maggiormente indiziati a concorrere sul campo hanno protestato vivacemente. Bari e Carpi sono andate oltre inviando pure degli esposti in Lega per chiedere di non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi sorteggio nel momento in cui il 4 maggio ci sarà l'assemblea. Da parte sua Francesco Ghirelli, chiudendosi in difesa, si è rifugiato in angolo, dichiarandosi pronto a interpellare i legali per capire se le doglianze di Bari e Carpi sono meritevoli di accoglimento. Nel trincerarsi dietro un passaggio obbligatorio e istituzionale, però, Ghirelli ha anche aggiunto di aspettarsi altre proposte alternative, cosa non semplice perché dovessero inaspirsi ancora di più i rapporti tra le varie società. L'orizzonte della Lega Pro potrebbe aprirsi a due strade. O si invalida del tutto la stagione, come sta per accadere nel basket, o si congela tutto modificando calendari e format anche del prossimo campionato, magari con un playoff ristretto. Ipotesi che Francesco Ghirelli non ha escluso, arrivando comunque a proferire una mara considerazione. Mettere d'accordo 60 società sarà praticamente impossibile, ma provarci, soprattutto prima del 4 maggio, diventa un obbligo ondevitare che il pallone, dopo i danni prodotti dal coronavirus, venga sgonfiato tutto anche da chi lo gestisce.